Qualche mese fa ho iniziato il progetto della fungaia con l'obiettivo di costruire una fungaia dentro questo bosco Nello scorso episodio abbiamo fatto una pulizia incredibile passando da questo risultato a quest'altro E in questo video andremo a concludere il progetto costruendo la fungaia In questo video cosa andremo a fare? Praticamente di togliere tutti i legni e di appoggiarli lì nel muro o da qualche altra parte comunque E poi la cosa più importante da fare secondo me è togliere tutte ste ramaglie che vedete perché sono in mezzo e in più Noi dobbiamo costruire la fungaia qua sopra quindi se ci sono ste ramaglie è un po' difficile Oggi ne abbiamo di roba da fare I legni li ho appoggiati qua così non sono più in mezzo e ora si è liberato tanto spazio là Direi di pulire quella zona là Questa qui era una vecchia conigliera e ora andremo a pulirla Questi ponteggi che vedete li andrò a spostare con un carretto nella zona vivaio dove c'è il ricovero degli attrezzi I buocci sono le uova di Spiderman Io boh tra l'altro un botto di roba c'era Si è liberato tantissimo spazio ora lo vedrete meglio Ora che abbiamo liberato lo spazio andremo a tagliare questi sfalci e li andremo a inserire in questa zona qui Quello che sto facendo semplicemente è trovare dei legni della giusta dimensione Da poterli usare per costruire altre cose In questo modo risparmio molti materiali Come vedete lì sto facendo tantissimi legni Poi andremo a modellare bene per la costruzione di cose Dolce agricoltura ha tenuto quei legni per costruire le pareti della fungaia O almeno quella era l'intenzione originale Facendo avanti qua Come vedete si è tolta tutta la ramaglia Abbiamo anche tagliato un po' l'erba E ora ci stiamo spostando in quella zona per togliere tutte le ramaglie È un lavoraccio del porco veramente Cioè sembra poco ma ci sono ramaglie, ceppi in mezzo Casino che maglio Finalmente abbiamo finito la pulizia delle ramaglie Mi ci è voluto un'eternità perché erano veramente tante Anche se non sembra dal video ragazzi erano veramente tante Quindi questi sono i rami che userò per costruire le pareti della fungaia Dopo vi farò vedere Ma prima ci concentriamo su quella zona Passiamo con il cespugliatore con le catene così le proviamo E qua così puliamo anche Queste catene sono spaziali Cioè guardate che pulizia Taglia anche tronchi Cioè guarda qui Oh taglia pure sta roba Cioè è legno questo eh Questo è ottimo per infilarsi in posti In cui cioè non viene tagliata l'erba da tempo Ci sono legni, cose Un po' alla rambo Ovviamente qui devo ancora completarlo col taglia erba Sono passato con il cespugliatore per abbassare il livello dell'erba Così è più semplice entrare col taglia erba ecco E in più per vedere se ci fossero legni o ramagli in mezzo Che se passi col trattorino è la fine Ora qua direi di completarlo Però prima di passare col trattorino a tagliare l'erba Direi di fare un'altra passata col cespugliatore E ora vi faccio vedere dove Ho pulito tutto là Però c'è sta zona qui E ho detto no Abbiamo il cespugliatore di rambo praticamente Passiamo qua in mezzo Tagliamo quello che possiamo Proviamo com'è il cespugliatore in una zona del genere Senza un ritegno Tagliato tutto Poi lasciate perdere che qua ci sono anche dei tronchi Quindi non ho voluto rischiare Tra l'altro riesco a muovermi meglio A tirare fuori sti tronchi Ora che ho ripulito un po' sta zona Direi di tagliare i ceppi Con una motosega E poi passiamo col trattorino A tagliare l'erba Sia in questa zona Che anche là in fondo Dove sono passato col cespugliatore Finalmente abbiamo liberato questa zona dalla vegetazione Questo pezzo di terra era incolto da anni E ora grazie alla pulizia che è stata fatta Si potrà costruire la fungaia Inoltre per nostra fortuna Dolce Agricoltura È riuscito a reperire dei bancali gratis E quindi i legni che aveva accumulato in precedenza Non serviranno più Ora che abbiamo tolto tutti gli sfalci dal terreno Direi che possiamo rimuovere l'edera Si sta arrampicando sui muri L'edera è stata rimossa dal muro Non darà più fastidio Direi che ora che abbiamo fatto tutti i lavori del caso Possiamo andare a costruire la fungaia Per prima cosa direi di andare a livellare questa zona qui Perché voglio muovermi su questi tre spazi qua Ecco Ora che abbiamo livellato direi che possiamo andare a posizionare i pallet Ho fatto una sorta di quadrato Ho seguito le misure del pallet Anche perché non voglio fare qualcosa di troppo personalizzato Considerate che qua poi ci vorrei passare con il trattorino Per tagliare l'erba e quelle cose Quindi se rimane un po' di spazio è perfetto Ovviamente non l'ho ancora fissato Infatti si muove Però la cosa che mi preme farvi notare è questa Che qua ci sono delle sorte di passaggi Non li vado a chiudere perché semplicemente proprio lì passeranno i funghi Io li metterò lateralmente Sopra si potrà mettere qualcos'altro Si lascerà vuoto I funghi li voglio fare laterali Così per raccoglierli viene una roba assurda Perché praticamente te passi con il coltello così E lo raccogli Mettiamo un po' di rinforzi qua sotto Grazie a tutti Ora che Dolce Agricoltura sta completando i due cassoni, costruirà anche un tavolino per appoggiare utensili e attrezzature. Ora che i cassoni sono posizionati direi di andarli a riempire con il letame. Ne ho fatti due per ora, poi quando avrò i materiali andrò a costruirlo in questa zona qui e lo farò molto grande. Ora come ora la fungaia non ha senso andarla a riempire di funghi, anche perché in estate ci sono delle condizioni di temperatura e umidità che non fanno proliferare i funghi, quindi quello che farò in seguito in questo areale è magari fare un orto rialzato. Andrò a prendere questi sacchi qua di letame che sono dietro l'orto, lo andrò a portare alla fungaia. L'obiettivo sarà andare a riempire tutto questo cassone e inoltre anche quello. Anche se già come vi ho accennato prima non andremo a mettere subito i funghi, ma prima sperimenteremo magari le orticole. Anche perché ora non ha senso mettere i funghi.